benissimo finalmente eccoci qua ho molte cose da dirti è vero ci vediamo una volta al mese ma ti giuro che ogni volta ti aspetto con ansia lo sai quelle altre non mi sono mai piaciute e poi tu sei sardo chi più di me si poteva innamorare di una come te perché ogni giorno ogni mese con te e san valentino poi ultimamente mi stai facendo anche dei numeri allucinanti cameriere il conto grazie e anche grazie a te se siamo qua buon san valentino